Siamo in via Bologna davanti al centro per l'impiego, c'è un presidio dell'USB per una campagna nazionale con più presidi distribuiti in diverse città. Perché siete qui al presidio e qual è la campagna nazionale che state portando avanti? Oggi è la seconda data di smobilitazione nazionale in tutti i territori rispetto alla campagna Uniti per il Reddito che era partita il 4 di marzo e la campagna è rivolta principalmente ai percettori di reddito ma non solo. Oggi siamo qua davanti al centro per l'impiego proprio per denunciare quello che poi sarà uno dei programmi messi in campo per i percettori di reddito, per i disoccupati, per quelli che percepiscono dalla discol, proprio perché il programma Groll è un programma dell'Unione Europea finanziato con i soldi del PNRR. Sono circa 4,4 miliardi di euro che vengono destinati sostanzialmente al collocamento, alla formazione di lavoratori, disoccupati, percettori di reddito e di cittadinanza. Siamo qua però per contestare quello che sta a monte rispetto a questo progetto, cioè dei soldi pubblici che vengono di fatto dirottati direttamente per quelle che sono le agenzie private di collocamento. Il programma Groll infatti si articola su fondi che vanno destinati sia ai centri per l'impiego che alle agenzie di collocamento. Noi denunciamo questo elemento perché crediamo che innanzitutto ci sia un discorso e un ragionamento da fare rispetto a quello che è la pubblica amministrazione, che è da sempre sotto organico e anche qua come i centri per l'impiego stanno dimostrando. Questo qua di Via Bologna in particolare da anni, da decenni, mostra continuamente delle falle. È un elemento da tenere in conto nonostante ci siano già stati a livello regionale dei bandi rispetto ai centri per l'impiego. Noi crediamo che bisogna andare oltre queste prime assunzioni e farne delle altre di massa. Quindi prima di tutto va articolato un ragionamento, un discorso su quello che è il lavoro nella pubblica amministrazione. Per cui se ci sono dei lavoratori che sono disoccupati, se il lavoro manca ma c'è la necessità invece di assunzione del pubblico impiego è chiaro che la priorità va data a quello che sono le strutture pubbliche. In secondo discorso è poi rivolta a quello che sono le agenzie di collocamento. Sappiamo benissimo qual è che è il lavoro proposto da decenni a tutti i lavoratori disoccupati da parte di queste agenzie. C'è un lavoro in cui i diritti sono ai minimi termini, sono contratti interinali, di apprendistato, formazioni infinite, stagioni, tirocini. Abbiamo avuto una prova con quella che era la garanzia giovane e poi con i progetti che sono seguiti. Noi oggi quindi siamo qua per dire che questi soldi devono essere dirottati altrove e che vogliamo aprire un'interlocuzione a partire dai centri per l'impiego ma in particolare con le amministrazioni regionali che si stanno occupando di dirigere il progetto e il programma Goal proprio perché crediamo che sia da verificare quali sono effettivamente tutti i lavori che vengono offerti e che bisogna anche aprire un tavolo di monitoraggio per quelle che sono le condizioni reali durante il rapporto di lavoro. Grazie.